Il mio progetto fondamentale è al centro del sistema la sanità. Abbiamo lunghissime fili d'attesa, abbiamo ancora ospedali in cui si paga il parcheggio, abbiamo dei primari che non sono del luogo e che spesso fuggono, abbiamo un fuggi-fuggi verso la sanità privata. Alle elezioni regionali del 17-18 novembre, barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Marcello Nicola.